Leggo sull'agenda di Paolo, dove lui mette i suoi scritti e i suoi disegni, giustizia spietata nel regno buddista di Muli, confinati in una prigione sotterranea con due ceppie lagone, i due uomini accusati di omicidio poterono vedere la luce del sole soltanto per essere fotografati da Ropp nel 1928. Cosa vuol dire questo Paolo? Vuol dire che la punizione di questi due criminali è una punizione spaventosa, in cui due uomini sono costretti per tutta la vita a vivere al buio. Questa è una cosa eccessiva, però voglio dire che anche noi dovremmo rivedere molto quello che è la nostra giustizia. Un attimo. E tutta la vita, la loro vita rimanente, rimanerà al buio dentro questa agonia. Esatto, tutta la loro vita. È terribile sta agonia. Oppure guarda che è così. Non la sapevo. Ti ringrazio Paolo. Grazie. Ciao.